Ma per quale motivo nel manuale della Visual Academy ti parlo del logo? Beh, perché devi sapere che il logo è il primo strumento attraverso il quale puoi comunicare lo stile di abbigliamento che tratti al tuo cliente e il modo che hai per far sì che il cliente possa identificarti all'interno del mercato e quindi scegliere se acquistare da te o dalla concorrenza. Il logo è composto da tre aspetti principali, il naming, il pittogramma e la tagline. Il naming è il nome del tuo negozio, il pittogramma invece è rappresentato da quell'immagine che accompagna il naming e che serve a specificare ancora meglio che tipo di stile tratti mentre la tagline è quella frase che si trova sotto il logo e che va a specificare ulteriormente il tipo di abbigliamento che tratti all'interno del tuo negozio. La tagline è un aspetto opzionale del logo ma in alcuni casi può essere molto utile soprattutto se tratti a un tipo di abbigliamento particolare che ha bisogno di essere specificato in maniera da far capire esattamente al cliente che cosa stai vendendo. Seguimi per altri tips di vision e marketing. Ciao!